Una frode informatica da oltre un milione di euro è stata scoperta dalla polizia postale, che ha arrestato sei persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla sostituzione di persona al furto aggravato e all'indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico. Sei persone sono finite in carcere su disposizione del GIP di Perugia. Avevano come base logistica l'internando napoletano, ma operavano su tutto il territorio nazionale. Le indagini sono state avviate nel luglio del 2018 a seguito delle segnalazioni presentate da alcuni istituti di credito. A partecipare attivamente all'indagine oltre alla postale, il reparto prevenzione e crimine di Napoli e il commissariato di polizia di Giuliano della Questura di Napoli. Le attività investigative coordinate dalla procura di Perugia sono state eseguite utilizzando anche attività tecniche e sistemi di tracciamento elettronico, così da consentire di accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere operante indistintamente su tutto il territorio nazionale, composta almeno da 10 persone. L'organizzazione criminale era ben strutturata e le mosse pianificate. Come prima cosa venivano compiuti furti della corrispondenza nei centri di smistamento di poste italiane. All'interno dei centri venivano individuati i dispacci contenenti le carte di credito. Si parla di centinaia di carte spediti da parte degli istituti di credito. Presi i titoli, entrava in gioco un esperto gruppo di telefonisti che chiamava i vari istituti emittenti delle carte e presentandosi come maresciallo o ispettore delle forze dell'ordine, affermava di aver appena sequestrato un consistente numero di carte di credito rinvenuto in possesso a malviventi. Con fare repentorio e con la scusa di riconsigliare i titoli in sequestro, si faceva indicare il numero di telefono dei clienti. A questo seguiva una complessa attività di social engineering compiuta da esperti tecnici che provvedevano a reperire tutte le informazioni e gli ulteriori dati necessari. Una volta ottenuti i dati, l'organizzazione rivolgeva la sua abilità criminale proprio verso i clienti ai quali, spacciandosi per dipendenti della banca, paventava problemi connessi nell'attivazione del titolo, riuscendo infine, con abilità persuasive, a farsi indicare il PIN dei titoli.